Musica Salve a tutti ragazzi qui è Joseph Gamera e benvenuti in questo nuovo video di GTA V Ragazzi oggi un video velocissimo davvero brevissimo per mostrarvi una sorta di bug easter egg Non so che cazzo sia non penso sia un easter egg perchè che diavolo sono tutti easter egg Cioè vedete qui compaiono a schermo sul terreno delle tracce non so cosa sia Guardate c'è delle macchie diciamo di colore chiaro compaiono detto così può sembrare qualcosa di diciamo di strano Ma come vedete guardate c'è che avvolgono anche i pali se non mi sbaglio Cioè io mi sono rifugiato qui sotto per nascondermi dalla fottutissima polizia che mi stava appunto per prendere Ho detto mi metto qui sotto qui sopra proprio c'è il parco giochi come si chiama il luna park Ho detto mi rifugio qui sotto non mi prenderanno mai guardate cioè che diavolo è Io ci continuo a camminare sopra Come vedete c'è continua Non so che diavolo sia se qualcuno magari ha una spiegazione al riguardo che Che diavolo vuol dire soprattutto se avete trovato altri bug fatemelo sapere appunto nei commenti E se vi è successa anche voi una cosa del genere magari me lo fate sapere nei commenti Come vedete ragazzi nonostante sia un grandissimo capolavoro appunto ci sono comunque delle cose da aggiustare Comunque ragazzi spero che questo video stupidissimo e soprattutto velocissimo vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace un commento di iscrivervi al canale nel caso in cui non siete già iscritti Ragazzi qui Giuseppe di Camera vi saluta e vi saluta anche Franklin qui che cammina su questa sorta di linea immaginaria che compare e scompare Ragazzi vi saluto e alla prossima ciao Ragazzi abbiamo qui Johnny Creek Ciao Johnny Johnny che preleva cosa fai? Vedete ragazzi posso dire di essere stato in macchina con Johnny Creek Anche se in GTA 5 Basta Johnny sali Vai si procede Grazie a tutti